Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 per lavori nel weekend, in direzione Bologna, corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, possibili disagi per la viabilità. In A12 chiuso lo svincolo di massa per chi proviene da Genova. E oggi alle 15 al Carlo Castellane di Empoli si gioca Empoli-Fiorentina, scattata da stamani la chiusura della viabilità nell'area sportiva. Tutte le info su www.empoli.gov.it Per quanto riguarda i treni per lavori di manutenzione nella stazione di Firenze-Campo di Marte, i regionali potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!